Ciao a tutti, sono Marcello Messina ed oggi voglio presentarvi due nuovi prodotti di casa Akifast, il nuovo attivatore, e Aki Blue, la nuova colla acionacrilica, una colla molto potente, di rapido incollaggio e soprattutto una colla estremamente liquida. Questa, a mio parere, è una caratteristica molto importante, in quanto ci consente sia di andare a realizzare i classici incollaggi degli snodi, che ormai facciamo un po' tutti, quindi perlina, girella perlina, perlina, tecnosfera perlina, ad esempio, sia di andare a effettuare degli incollaggi un po' più particolari, andando ad utilizzare i nostri luminos tube, che sono disponibili in diverse colorazioni, fino ad arrivare anche al trasparente, e in diversi diametri, a seconda del monofilo che andremo ad utilizzare per la realizzazione del nostro trave. Per farvi capire di cosa sto parlando, ho qui con me una serie di travi che ho realizzato personalmente, utilizzando appunto la nostra colla, il nostro attivatore, il nostro Ultra Gold 060 e il nostro luminos tube da un millimetro trasparente. Questi travi sono molto particolari, in quanto non presentano nessun punto debole. come riusciamo a vedere, qui c'è la nostra girella capocorda, che poteva essere anche un'asola, me ne faccio vedere una di un altro trave, che risulta completamente invisibile. Comunque, tornando al nostro trave, quindi il nostro tubetto è perfettamente incollato, con la colla al suo interno, senza alcun nodo. Poi vi è il primo snodo, secondo snodo, terzo snodo, è un trave a tre ami. E infine, il nostro moschettone con girella, anch'esso incollato. Questo ci consente di lanciare molto più tranquilli, sapendo che il nostro carico di rottura rimane completamente invariato. In più abbiamo un trave estremamente pulito e lineare. Per qualsiasi dubbio o chiarimento, non esitate a contattare la nostra pagina Facebook o uno di noi testimonial. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!